Io questo video non lo volevo fare, giuro che è veramente il video di un prodotto che mi ha più fatto sclerare, io non ne posso più, ma come al solito, con molta calma, partiamo dall'unboxing. Salve, oggi siamo con una console, anche se non è propriamente una console, ed effettivamente da che questo canale esiste non abbiamo mai parlato di console, perché in realtà non è uscito niente di così rilevante. Sì, è uscita quella di Asus e la Streamdreck, sì, sono prodotti interessanti, sì, tutto quello che volete, però in questo mondo o una cosa la fa Sony oppure la fa Microsoft, più Nintendo che adora la follia, ma che consideriamo un'attima parte, dopo ne parliamo in un ragionamento più ampio. Comunque, PlayStation Portal. Ora, tutti noi ci ricordiamo la PSP. Ecco, diciamo che è un concetto che è un po' sparito negli ultimi anni e questo invece mira perlomeno come idea a riportare la portatilità del gaming in giro. Tutto questo, però, viene fatto non con una console, ma con uno strumento, che è esattamente questo coso qua, che di fatto è un semplicissimo controller della PlayStation, nulla di diverso, stessi tasti, stessa impostazione, ma allungato e con in mezzo uno schermo. Semplicissimo. Qua dentro non c'è una console, non c'è tutta la potenza grafica della PlayStation 5, non c'è dentro praticamente niente se non un piccolo computer, che si occupa di connettere lui alla PlayStation 5, che deve rimanere accesa, fa il mirroring e sfruttando il magico internet, che tu sia nella stessa casa, lontano, col wifi o con la rete magari del cellulare, da remoto puoi giocare con la tua PlayStation e fare tutto quello che puoi fare dal divano con la televisione e la play attaccata. Intanto che si accende, vediamo cos'altro abbiamo, cavo USB-C, USB-C, il display come vedete è touch, molto bella questa cosa, comunque oltre ai classici controller della play, qua sotto c'è la USB-C, c'è il jack per le cuffie, qua c'è un microfono, gli altoparlanti, volume, accensione, qua c'è un altro tasto e basta, questa è, vi dico, così a naso mi piace tanto, non so poi quanto la userei però. Aggiornamento fatto, adesso dobbiamo connettere una PS5, selezione una PS5, in questo momento è qua sopra, in stand by, connessione, a prima di connettere da qua bisogna attivare una cosa dalla PlayStation, bisogna andare in impostazioni, sistema, riproduzione remota e semplicemente abilitarla. A questo punto, connessione in corso, gioca, fondamentalmente nulla più che la classica schermata di PlayStation 5, stessi comandi, stessa interfaccia, il display è da 8 pollici, IPS, 60 Hz, quindi non proprio il top del top. E niente, adesso gioco un pochino, e fin qui stava andando tutto bene, col wifi interno la PlayStation funzionava, i primi test, dopodiché sono iniziati gli scleri più totali. L'ho provata a casa e non funzionava, l'ho provata fuori casa con l'hotspot e non funzionava. Prima di giudicare qualsiasi cosa estetica, pratica o di funzionamento, occorreva che funzionasse, perché sì, in locale funzionava tutto, dopo vediamo come e quanto funziona, ne parliamo più tardi. Ma prima di fare tutte queste riflessioni che sto facendo, volevo provare ogni singola cosa. E vi posso garantire che le abbiamo provate tutte, modificando a mano le impostazioni del modem, le porte, non le porte, e il port forwarding, e l'ipistatico, e la DMZ, un casino. Tra l'altro un super grazie a Giuseppe di dimensione, santuomo, che ci ha aiutati e non ne venivamo a capo. Perché appunto, col wifi tutto bene, con l'hotspot del telefono non andava niente. Mentre in altre video recensioni funzionava tutto. E io ci tengo a raccontarvi tutto quello che è successo con la massima trasparenza, perché da una parte mi sono veramente sentito stupido, e dall'altra, quando succedono queste cose, è proprio quando odio, io in primis, che amo ogni forma di tecnologia, odio la tecnologia. Perché lo scopo base è semplificare, è essere a prova di imbecille. Anche perché qua mi dava sempre il solito errore sconosciuto, senza darmi maggiori informazioni per capire come risolvere il problema. Connessione, connessione, si è verificato un errore! La facilità d'uso, il cosiddetto plug and play, dovrebbe essere veramente alla base di ogni dispositivo. Fatto sta che a un certo punto ho pensato che fosse un problema della mia portal. Visto che si trattava comunque di un dispositivo stampa che mi hanno dato prima del lancio, poteva essere. E in più, avendo poi problemi con il remote play su iPad e su iPhone, ho pensato che forse era un problema della mia PlayStation. Quindi, nel dubbio, per tagliare la testa al toro, abbiamo niente po' po' di meno che una nuova portal e una nuova PlayStation 5. Per trasparenza vi dico che questa me l'aveva mandata Sony, questa non ce l'avevano, quindi me la sono comprata. Tra l'altro in super sconto Black Friday, vi ricordo che ci sono i canali offerte da Ale con tutte le offerte, sia WhatsApp sia Telegram. Ci ho detto, proviamo prima la PlayStation e se poi non funziona proviamo anche la nuova portal. Non so più cosa fare, anche perché la mia play me l'aveva mandata Sony in anteprima, quindi boh, magari c'è qualcosa che non va. È tutto veramente frustrante, ma voglio capire quale sia il problema. Uhlala, comunque è sempre bellissima, secondo me. Vi risparmio i successivi scleri, vi risparmio tutti i test. Ovviamente l'unica cosa che non avevo provato era quella che poi generava il problema, che sembra essere l'hotspot di iPhone. Infatti con telefoni Android pare che funzioni. E qua iniziamo con le considerazioni vere su questa PlayStation Portal. Che vi dico, malgrado tutto quello che mi ha fatto sclerare, a me, dal punto di vista estetico, di design e di tutto quello che volete, piace. Poi sì, c'è chi dice che è scomoda per giocare, lo schermo è troppo sotto e poi ti dai fastidio con i controller. Boh. Queste per quanto mi riguarda sono finezze, sono pareri personali. Il problema alla base però è il concetto. Perché quella che è l'idea generale di questa roba qua è molto bella. Hai già la PlayStation, ma hai magari la televisione occupata, perché in una famiglia ognuno vuole guardare quello che vuole guardare. Hai i genitori che vogliono guardare un film. A quel punto, dal divano o dalla camera, giochi alla tua PlayStation. Sì, con uno schermo limitato, sì, tutto quello che volete. Ma si può assolutamente fare. Sicuramente non è pensata per il Pro Player, perché il Pro Player tendenzialmente non gioca neanche alla PlayStation, ma gioca al computer. Ma questa è un'altra storia, poi qua si apre un mondo. Per il giocatore casuale, diciamo che quest'utilizzo in casa non è male. Tuttavia l'hanno chiamata Portal. E quindi io la voglio usare in giro. O con una connessione Wi-Fi o con una connessione mobile. E qua, insomma, le criticità iniziano a esserci. Certo è che per lo stesso utilizzo ci sono infinite altre soluzioni. Con gli stessi soldi banalmente ti prendi una televisione, oppure un tablet, vabbè, non un iPad, però. Un qualsiasi tablet con il tuo DualSense ti connetti a quel punto. Fai la stessa cosa che farei, ma con l'iPad, visto che c'è il Remote Play. E oltre a poter giocare ai giochi che hai sulla Play, hai anche un cacchio di tablet con cui ti puoi guardare i video su YouTube, i film. E soprattutto col quale puoi utilizzare NordVPN. Meno male che c'è NordVPN. Vi ricordo che ho fatto un intero video che spiega esattamente come funzionano le VPN e tutte le cose che si possono fare. Link qua sotto. Tra i principali vantaggi c'è sicuramente quello di sicurezza. In quanto la connessione passa da dei server in modo criptografato e si riesce quindi ad avere una maggiore privacy quando si naviga. E poi abbiamo parlato di contenuti. Se dal vostro tablet volete vedervi, che ne so, dei contenuti che sono disponibili solo in America, vi connettete all'America, schiacciando sull'America in maniera molto semplice. Lui trova in automatico il miglior server. Siamo connessi e accederemo alle cose americane. Semplicissimo. Se ancora non ce l'avete, fatevelo. È quella cosa in più da avere. Non si sa mai perché poi serve sempre. Link qua sotto in descrizione. Super offerta. Una VPN al giorno leva il medico di torno. Ma detto questo, continuiamo a capire che diamine gli senso ha questa roba qua. Abbiamo detto sulla stessa rete wifi ci sta, funziona. Quanto meno utilizzabile per la maggior parte dei giochi. Ecco che già Call of Duty è giocabile, ma insomma preferirei giocarlo direttamente sulla console. Vediamo di capire però come si comporta in remoto, visto che l'hanno chiamata Portal. Ed eccoci con il test da remoto. Adesso siamo connessi con il 5G, con un pixel. E siamo letteralmente sotto un ripetitore 5G. E funziona molto bene. Cioè si vede bene. Vedete che è bella reattiva. Adesso proviamo per esempio Spider-Man. È tranquillamente giocabile. Sì, ogni tanto tira delle laggate, però... Ah, vedi? Altro test. Ci stiamo connettendo. Come vedete la connessione è molto lenta e molto macchinosa. Ma soprattutto non sempre funziona. E va abbastanza a caso questa cosa. Io non sto proprio capendo. Eccoci! Vediamo un po' FIFA come si comporta. Partiamo male con tutto che lagga. Connessione al server. Yeah! Monza contro... Como. C'è pure l'audio che gracchia e lagga. Allora, ecco che già giochi come FIFA iniziano ad essere un pochino più impegnativi. Nel senso che, va bene, è giocabile, però si inizia a sentire un po' il lag. Insomma, vedete, inizia ad essere un po' imbarazzante la situazione. Poi già io sono scarso. Se in più lagga tutto è un casino. Quindi insomma, per giochi più dinamici già giocare da Wi-Fi non è il massimo. Giocare da hotspot è abbastanza impegnativo. Call of Duty non ve lo faccio neanche vedere perché è ingiocabile. Ricordiamo che la stiamo provando a Milano con dispositivi di ultima generazione di cui appunto gli iPhone ne abbiamo provati vari, con varie connessioni. Non ha mai funzionato niente. Altro test per scrupolo. Nella stessa posizione abbiamo riprovato con un iPhone. E non va, proprio non vuole connettersi con iPhone. 5G, super qualità. Non so che cosa si possa volere di più dalla vita. Io veramente sono stra dispiaciuto perché ero gasatissimo e quando la vedo e la tengo in mano mi gaso. Poi però ci ragiono e sono veramente dubbioso sul senso di questa. Cioè la Switch come concetto è 10.000 spanne sopra. Cioè la posso usare in mobilità ma all'occorrenza la piazzo nella base della televisione e la uso con la televisione. Stacco i controller, la piazzo. Cioè capite che questa è una roba geniale che mi fa amare la tecnologia e come è progettata, come è ottimizzata. Perché oltre alle specifiche, oltre all'utilizzo primario è un peccato che un prodotto sia limitato così tanto. Chiaro che lei non ha senso paragonarla con una console perché nasce come un accessorio della PlayStation. Però un po' mi dispiace perché avrei voluto una cosa portatile veramente dove in giro per il mondo avrei potuto giocare al mio Spider-Man che, parentesi, è uno dei miei giochi preferiti di sempre. Secondo me è stata pensata principalmente da usare in casa per il primo utilizzo che ho detto anche perché già solo metterla nello zaino è scomodo. Tuttavia veramente si potevano inventare mille cose. Pensate a una roba che mi ha fatto arrabbiare tantissimo. Questi hanno avuto il coraggio di mettere la modalità aereo. Mi spiegate come diamine potrei utilizzare questa roba in aereo? Forse Elon Musk che c'ha Starlink sul suo jet privato può usarla con comunque un ping assurdo e... La modalità aereo? Sono triste. Io queste cose su questo prodotto non volevo dirle. Non mi piace tantissimo parlare mai dei prodotti perché comunque ci ha lavorato dietro un sacco di gente ma qua non stiamo parlando di criticare una funzione, una cosa, una cosa detta in una maniera diversa, l'ennesimo prodotto magari non con tante novità rispetto agli altri, rispetto all'anno scorso, chissà che cosa. Se si vuole fare polemica si può fare su tutto ma qua stiamo proprio parlando di un prodotto completamente sbagliato. Poi magari mi sbaglio io, magari con il software e con aggiornamenti futuri questa cosa verrà migliorata? Magari sì perché alla fine parliamo di compatibilità e modo in cui viene gestita una connessione. Tra l'altro poi c'è tutto il discorso del cloud in cui Sony un pochettino ha già messo le mani ma che non ha mai spinto e che con lei in questo momento è totalmente bloccato. Cioè l'unico modo di usarla, ripeto, è usarla con una PlayStation, non si può usare cloud, PlayStation Plus e cose varie. Però boh, speriamo che in futuro aprano cose, questo è quello che mi auguro. Mi chiedo, sto sbagliando qualcosa? Boh, sono dieci giorni che ho fatto tutti i test possibili e immaginabili cercando di dare un'opportunità a questa cosa e non l'ha trovata. Mi dispiace tantissimo, io sono cresciuto con le console, sono cresciuto con il DS, avrei voluto tantissimo la PSP ma i miei genitori non me l'hanno mai comprata. Cose come la Switch mi fanno dire, figo, ha ancora un senso che esistano delle console. Cose come questa mi fanno dire che ormai visti i telefoni sempre più potenti forse le console portatili sono definitivamente morte. Fatemi sapere, mi raccomando, cosa ne pensate. Da Yaki e da questo aggeggio che mi ha fatto sclarare tantissimo, era tutto. Io comunque la userò e vi farò sapere, però per ora è un no definitivo. Ci vediamo, alla prossima, ciao 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 ciao.